Mi è sembrato esagerato leggere alcuni commenti e soprattutto questa animosità che la ritengo eccessiva rispetto all'argomento. Mi piacerebbe che ci fosse anche su tanti altri argomenti dove anche chi si impegna politicamente o comunque pubblicamente fa molte volte fatica a far passare alcuni concetti o anche solo ad interessare il pubblico su temi ben più importanti. Io credo che se avessimo fatto una cosa come Pesaro le critiche sarebbero state sui fondi che la città in qualche modo avrebbe speso per fare quell'iniziativa, dove li avrebbe presi, a quali fondi li avrebbe tolti perché un po' è questo il dibattito che si genera ogni volta che si cerca di fare qualcosa. Questo avviene un po' troppo spesso secondo me nella nostra città e poco nelle altre. Da noi c'è un po' questa moda di farci del male da soli e quindi di criticare comunque a priori tutto. Va parlato chiaramente e spiegato chiaramente alla città che per avere determinati servizi o per avere determinate cose all'altezza vanno fatte delle scelte che poi dopo non possono essere tutte le volte messe in discussione. Grazie.